Ciao a tutti, l'uomo giusto esiste, ecco come conoscerlo e conquistarlo. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, l'uomo giusto esiste, devi solo imparare a conoscerlo, vedere dove conoscerlo e poi ovviamente conquistarlo. Intanto qual è l'uomo giusto? L'uomo giusto è quello che non ti fa soffrire, è quello verso il quale provi attrazione, è quello verso il quale avete valori condivisi, uno stile di vita condiviso, questo è molto importante. Intanto la prima cosa che bisogna imparare a fare per attrarre con la legge di attrazione l'uomo giusto è quello di non coinvolgersi con uomini sbagliati, perché nel momento in cui ti coinvolgi e soffri per uomini sbagliati hai, come dire, riempito già il serbatoio emotivo e quindi la tua parte emotiva e di conseguenza l'universo non ha nessun interesse a farti incontrare l'uomo giusto. Ora, prima di andare avanti ti ricordo che domenica 24 novembre terò a Milano un seminario completo intensivo dalle 9.30 alle 19, dove tra le altre cose spiegherò appunto come incontrare la persona giusta, come attrarre la persona giusta attraverso la legge di attrazione e poi come conquistarla attraverso le tecniche di seduzione. Se sei interessata o interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Lascio comunque le info nel box. E veniamo di nuovo all'uomo giusto. Quindi il problema è che ti coinvolgi con uomini sbagliati. Se tu smettessi di coinvolgerti con uomini sbagliati, aumenteresti drasticamente le probabilità di incontrare quello giusto. Allora, il fatto che ti innamori di uomini sbagliati, cosa è dovuto? È dovuto a una cosa molto semplice. È dovuto al fatto che praticamente tu ti nutri di emozioni negative. Non sei in grado di dare il positivo alla tua parte emotiva e quindi il sistema si prende automaticamente in negativo. Perché noi abbiamo un sistema mentale, che è la sfera emotiva, che va costantemente alla ricerca di emozioni. E se tu non ti sai prendere emozioni positive, ti prendi quelle negative. Quelle negative quali sono? Sono quelle che ti generano sofferenza. Il sistema si nutre o di sofferenza o di piacere. E se tu hai un mindset, una mentalità focalizzata sul negativo, questo andrei a vivere. Ora, dobbiamo tenere presente alcuni fatti fondamentali. Se tu vuoi iniziare a conoscere l'uomo giusto, prima devi svuotarti emotivamente da quello sbagliato e svuotarti emotivamente dall'imprinting. Come fare questo? Bene, iniziando uno stile di vita un po' diverso. Certo, per ogni cosa bisogna fare un sacrificio, nessun pranzo è gratis. Ma questo è un sacrificio che darà ottimi risultati e ti porterà davvero a raggiungere i grandi obiettivi. Quindi, se per caso, se in questo momento sei coinvolta con un uomo sbagliato, devi fare un atto di coraggio e lasciarlo. Poi ti prendi la sua foto, ti vivi sistematicamente delle emozioni, date dalla sofferenza del fatto che l'hai lasciato, dall'abbandono. Perché se tu l'hai lasciato, se tu non avevi la forza di lasciarlo è perché temevi l'abbandono. Te le vivi, diciamo, in due momenti della giornata. Dieci minuti a giornata. Dieci e dieci. Venti minuti. E dopodiché, in questo modo, dai la parte emotiva al suo contentino, gli dai quello che gli avrebbe dato lui, con la sua presenza, che magari non era disponibile o faceva cose che non ti piacevano, e tu gli le dai con la sua assenza. Quindi la parte emotiva è già sazza. Nel frattempo inizia a immettere altre emozioni, cioè devi iniziare a uscire, frequentare posti, frequentare luoghi, ovviamente allineati col target che hai nella testa. Cioè, se cerchi un uomo che sia, diciamo così, che abbia certe caratteristiche, devi andare in certi posti. Come dire, non vai a cercare l'aspirina in farmacia. Eh no, l'aspirina in panetteria. L'aspirina vai cercando in farmacia. E invece spesso le persone vanno a cercare l'aspirina in panetteria. Cioè, vai nelle balere periferiche della tua città, sperando di trovare l'uomo che vuole fare una vita con te. Troverai soltanto uomini sposati che vogliono tappare dei buchi. Vuoi essere un buco da tappare? E allora vai in quei posti lì. Però, in generale, diciamo, puoi frequentare il circo, in ambienti culturali, eccetera, a seconda della persona che vuoi trovare. Ma, la cosa più importante, che non è tanto importante, è importante dove vai, ma l'universo, nel momento in cui tu avrai fatto quest'atto di coraggio e lasciato questa persona, quella che ti fa soffrire, oppure, nel momento, se non avrai nessuna persona che ti fa soffrire, nel momento in cui esprimi fortemente l'intenzione attraverso lo sviluppo e l'attivazione della legge di attrazione. Come attivare passo per passo la legge di attrazione? Te lo spiego nel mio corso che terrò domenica 24 novembre a Torino, dalle 9 e 30 del mattino alle 19, corso intensivo, e se sei interessato, interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Va bene un messaggio WhatsApp. Comunque lascio le info, alcune info nel box. E quindi, questo è quello che devi fare. E poi non devi fare nient'altro che aspettare fiduciosa, perché la fede e la fiducia sono fondamentali, affinché le cose accadano. Quando tu hai seminato, poi devi attendere. Hai seminato, innaffiato, concimato, devi solo attendere che il seme cresca. Ma se tu hai fatto le cose fatte bene, questo seme crescerà e darà sicuramente i suoi frutti. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Termasco, Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.